Allora, soci, in questi giorni si sta parlando moltissimo di femminicidio e anche di patriarcato, però ecco, io ho delle perplessità in merito, nel senso che non sono sicurissimo che le due cose abbiano un rapporto così diretto, diciamo, l'una con l'altra e soprattutto non sono sicuro delle intenzioni, delle modalità, della natura dell'osservazione, della natura delle risposte che vengono date in questo periodo. Mi spiego, si fa un automatismo incredibile e immediato quando si collegano tutte le morti violente di donne alla categoria del femminicidio. E già questa è una cosa un po' strana perché ci sono tutta una serie di crimini che vengono commessi per motivi che non hanno necessariamente a che vedere con il sesso della vittima e quindi in seconda battuta non hanno a che vedere con le dinamiche culturali e sociali legate al rapporto tra i sessi, la tradizione familiare, tutta una serie di cose che sono normalmente le zone a cui invece viene applicato il patriarcato, diciamo, come spettro che alleggia sulla cultura e sulla società di un paese e che invece diventa appunto il giustificatorio, il legittimatorio di tutta una serie di comportamenti. Per cui si dice che ci sono una serie di personaggi che fanno un tipo di comunicazione. Non voglio dire dire direttamente propaganda perché voglio evitare, diciamo, di essere automaticamente complottista ma poi magari arriveremo al motivo per cui esiste la possibilità di diventare complottista in questo senso. Ci sono delle persone appunto che fanno invece questo collegamento in maniera molto diretta e quindi dicono c'è un certo numero di donne morte nel 2023. Le donne morte rientrano tutte indiscriminatamente nel conto dei femminicidi. I femminicidi sono causati dal patriarcato, ossia, senza essere meglio definito da un assetto culturale che dal culturale poi diventa sociale, secondo cui l'uomo ha potere di vita e di morte sulla donna, ha potere di imporre dei comportamenti, ha potere di decidere come si gestisce la vita familiare e tutta una serie di cose. Allora, questa roba fatta così, con questo ordine lineare, chiaramente è falsa, molto falsa. Da qui in poi bisognerebbe procedere a smontare i singoli pezzetti e a capire in che misura è falsa, in che misura è vera. Cioè, non perché uno debba sentire la voglia di smontare le femministe che sostengono questa cosa? Perché il mio problema non è che una donna che dichiari di essere femminista e quindi abbia a cuore i diritti, la condizione di vita media all'interno della società delle donne. Non mi interessa smontare questa persona, una persona che abbia interesse al pubblico, alla popolazione civile femminile, ai suoi diritti, alle sue possibilità, alle sue tutele, eccetera, non ha nessun motivo per smontarla, delegittimarla, insultarla assolutamente. Sono, anzi, sono totalmente dalla sua parte. Diventa un problema quando questa persona, pur collocandosi in questa posizione, fa un'analisi incredibilmente superficiale della società della cultura, eccetera, eccetera, e fallisce dall'individuare i reali problemi o le reali condizioni per cui, in certe situazioni, le donne sono svantaggiate legalmente, socialmente, lavorativamente, culturalmente, tutta una serie di cose. E questo ferisce, diciamo, di ritorno a me che avrei tanto voluto aiutare questa persona a individuare i veri problemi, le vere cause, i veri responsabili e quindi aiutare a risolvere il problema, perché vedo che sbanda, che non sta mettendo a fuoco il problema. Ora, non che io abbia in mano la soluzione, per carità, ma io so che quando sento una causa faccio uno sforzo per approfondire l'analisi, per avere una maggiore risoluzione del quadro dell'insieme, nella speranza di avvicinarmi a mettere a fuoco le cause più rilevanti, i problemi prioritari, diciamo, i malfunzionamenti del sistema che hanno maggiore effetto negativo su quella determinata tematica. E proprio perché mi importa faccio uno sforzo. Quindi, ripeto, non mi interessa manifestare la mia rabbia nei confronti delle femministe superficiali, non me ne frega niente, perché il problema di essere superficiale è un problema loro, è un problema umano, è un problema intellettuale, è un problema culturale, eccetera. È un problema loro. Dovrebbero sapere invece le femministe che si applicano molto più seriamente che tutta questa invece francia di pseudo-femministe, di femministe con una capacità di analisi incredibilmente superficiale, eccetera, eccetera, fanno danno alla causa. Perché se spostano l'attenzione in massa attraverso i media, attraverso queste influenze, questi personaggi popolari, dalle soluzioni imbarazzanti, dalla visione ristrette, eccetera, spostano l'attenzione in direzioni che invece non aiutano a risolvere il problema, non lo mettono a fuoco, non individuano le cause, eccetera, e quindi non si fanno grandi passi avanti. Anzi, forse il contrario. Facciamo un esempio, così, per iniziare, di un livello di analisi che già ci presenta una realtà già piuttosto modificata, già piuttosto attraverata. Stavo cercando gli occhiali e lì avevo in testa, chiaramente. Allora, quando si parla di femminicidio, soprattutto se si intende metterlo in relazione al patriarcato, quindi a un contesto culturale retrogrado, che vede il maschio essere convinto di avere diritto ad un'autorità sulla femmina, si porta una testimonianza dei numeri, adesso che ritrovo, dei numeri che non sempre rientrano legittimamente in queste categorie. Facciamo questo esempio, un articolo che ci riporta un tot di storie, un buon numero di storie di femminicidi, non tutte quelle di quest'anno, ma un buon numero. Femminicidi in Italia del 2003, chi e quante sono le vittime? Questo è un articolo di novembre, quindi quasi già a fine anno. Parte ovviamente dal caso noto di Giulia e poi fa tutto un'altra legge. Allora, siccome sono sintetizzati le situazioni, sono molto sintetizzate, ve le leggo o se volete le leggiamo insieme, vediamo se riesco a switchare al browser. Allora, abbiamo switchato al browser e andiamo a vedere. Qui si dice, appunto, si parte da Giulia Ciacchettini, eccetera. Studentessa in ingegneria, avrebbe dovuto lavorare il 16 novembre, il suo sogno è stato spezzato da Filippo Turetta, un coetaneo che la ragazza aveva lasciato più volte, la notte del novembre, eccetera, eccetera. E lo sappiamo. Ha restato in Germania. Poi, Rita Dallamelli, muore strangolata dal marito, un pensionato di 70 anni, nella sua casa di Fano, forse inseguita una lite. L'uomo è un angelo sfuggiti, fa ridere perché, di nome ma non di fatto, la veglia per ore, poi assume barbiturici, ma scampa al tentato suicidio, a scoprire cosa succede uno dei figli della coppia. Quindi l'uomo uccide ma tenta di uccidersi a sua volta a 70 anni. E non è un caso isolato, ne vedremo poi diversi altri che hanno avuto invece maggiore successo in entrambi i sensi. Francesca, 67 anni, assassinata con colpi di fucile mentre rientrava a casa con il marito, rimasto lievemente ferito. La donna aveva appena concluso il suo turno di guardia medica a Santa Caterina. L'omicidio è forse legato alla sua professione. Ok, quindi, una donna che viene uccisa a fucilate insieme al marito che però rimane lievemente ferito, eccetera, in relazione a dinamiche scattate nell'ambito della sua professione, rientra nella categoria del femminicidio, è stata uccisa in quanto donna o in quanto c'era un problema in ambito professionale, eccetera, non si può sapere. Bisognerebbe andare a indagare sulla natura del diverbio. Chiamiamolo diverbio, insomma. Patrizia, rosa strangolata dal figlio, Francesco, nella loro abitazione. Il ragazzo, raiò confesso, dichiarato di aver agito perché non aveva preso le medicine. nella donna, ok, qui siamo, evidentemente non viene specificato perché non si sa mai andare più di tanto in profondità, ma mi sembra di poter intuire che c'è un problema di una condizione psichiatrica del figlio, che quindi non è marito, che non è uno che vanta alcun diritto sulla femmina in quanto moglie, in quanto fidanzata, eccetera, eccetera, ma è un ragazzo che, evidentemente, è un ragazzo da 30 anni, è un uomo che evidentemente soffre di qualche cosa. E come possiamo immaginare, le persone che soffrono di qualche cosa finiscono per ledere molto frequentemente a chi gli sta più vicino. Virginia, il suo corpo è stato ritrovato in avanzato stato di composizione in provincia di Serena. Una donna trovata in una struttura di vacanze è stata scoperta casualmente da uno di due petali. È stata ritrovata in camera da letto, mentre in cucina c'erano i resti di una cena consumata da due persone. Ok. Questo è già molto più plausibilmente un femminicidio. Però, diciamo che non è ancora così chiaro, perché sembra che non sembra risolto, però, diciamo, dalla situazione uno potrebbe ipotizzarlo più facilmente, ma stiamo al quinto che vi leggo, non sono tutti così evidenti. Di origine inglese, innamorato dell'Italia, colpito e coltellato da sette coltelle delle dome, viene arrestato il Michael Dennis Whitebread, 74 anni, compagno delle donne che si era reso intanto irreperibile. Cioè, questo non rispondeva e pensava di qualsera così. E qui siamo in una situazione di coppia, in cui eventualmente esistono gli estremi per parlare di una questione culturale, di retaggio culturale, che però in questo caso non è ascrivibile al mondo italiano e a quanto sono retrogate, retrogate gli italiani, perché il tizio è inglese. Etleva, mamma di quattro bambini, originale dell'Albania, ucciso dal marito Selami Bo, di 41 anni, l'uomo strangolato in camera, non usciva mai da solo, soffocato dalla gelosia e dalle regole e quindi culturalmente ci riguarda relativamente poco. Analisa, marito cederele ha tolto la vita con una coltellata alla gola, poi si è suicidato gettandosi dal silos dello stabilimento. Ok, quindi questo uccide evidentemente in preda a una crisi di rabbia dovuta a chissà quali complicazioni all'interno del rapporto e poi comunque si uccide e quindi non trae vantaggio dall'omicidio. Possiamo tranquillamente pensare che quest'uomo non avesse alcuna convinzione di essere, di avere il diritto di fare quello che voleva. Anzi, ha perso qualsiasi convinzione, è diventato aggressivo, è diventato omicida, poi si è reso conto che il gesto commesso non aveva nulla a che vedere con le sue convinzioni, con la sua anima, con i suoi sentimenti e quindi si è tolto la vita perché l'improvviso aveva perso senso tutto. Ex impiegata, ucciso dal marito ultraottantenne, molti sono parecchi anziani. L'uomo ex orificiae le ha sparato con un fucile prima di rivolgere l'arma contro se stesso, un altro uomo che uccide, ma non essendo affatto convinto di aver poi diritto di continuare a vivere, uccide se stesso. Quindi, capite? Colpita a morte dal figlio, non dal marito, non dal fidanzato, che l'ha uccisa a colpi di accetta, quindi parecchio avvelenato. Si è avventato poi contro il padre, quindi nessun particolare riguardo per la figura paterna, che però è riuscito a scappare e dare via l'allarme. Storia ghiacciante, Antonella muore dopo 47 giorni di agonia a reparto grandi ustienati. Un vicino di casa, quarto, l'aveva gettato addosso della benzina al culmine di un litigio, quindi non necessariamente, almeno non è indicato in quanto donna, ma in quanto vicina. Marta Di Nardo, due settimane dopo essere scomparsa, è stata trovata morta nell'appartamento del vicino. La donna sopravviviva con la misura pensione del marito defunto, aveva problemi psichiatrici e di ludopatia. Quindi stiamo parlando di una condizione di disagio totale. L'ivrei avrebbe ucciso Di Nardo e smembrato il corpo. Il corpo, nascondendole in intercapedite della cucina, volevo prenderle il bancomat, ha dichiarato. Quindi stiamo parlando di una condizione di disagio di entrambe le persone coinvolte, il cui il movente finale era il denaro. Quindi non rientra nella categoria del femminicidio perché la caratteristica dell'essere femmina non fa parte del movente, del motivo scatenante. Concetta, vita di botte, minacce e violenza sessuali che avevano portato anche l'uomo a processo. Nonostante il divido di avvicinamento e il braccialetto elettronico, Franco Panariello è riuscito comunque a uccidere l'ex con 39 coltellate davanti al rifiuto di 17 anni. Qui invece stiamo parlando di un elemento di cui ho sentito parlare molto poco in questi giorni e di cui invece sarebbe molto più importante parlare in maniera dettagliata che è quella invece della reazione dell'impianto legale, delle forze dell'ordine, della tutela, del rapporto che il mondo femminile ha con le forze dell'ordine, dell'impianto legale, processuale, eccetera, eccetera. Dove lì abbiamo dei problemi molto seri perché, per esempio, non so se avete letto questa cosa, qualche giorno fa c'è stato un post sulla pagina Facebook della polizia, la polizia che immagino volesse partecipare al cordoglio condiviso di questi giorni e che invece è stato coperto da una shitstorm epocale di un sacco di donne che hanno lasciato commenti portando la propria testimonianza di a io quando ho denunciato non è cambiato niente, a io quando ho fatto un esposto non è cambiato niente, a io quando sono venuto mi avete detto eh vabbè che sarà mai e fino a che non c'è un livido non possiamo fare niente e bla bla bla. Quindi questo è un problema strutturale di cui sarebbe molto importante parlare e che può avere può avere in qualche misura un rapporto con un assetto culturale retrogrado maschilista o quello che vuoi, può avercelo. Qui sarebbe il caso di sottolineare che esiste questa possibilità e a quel punto sarebbe anche il caso di sottolineare quanto quanto uno dei pochi luoghi in cui questo fattore culturale retrogrado si manifesti sia nel rapporto tra le donne e le forze dell'ordine. Quali sono i fattori che determinano il fatto che sia in questa relazione che escono fuori alcune di queste probleme che esce fuori il retrogrado? Perché i poliziotti carabinieri eccetera eccetera tendono a manifestare eh degli atteggiamenti culturalmente retrogradi e maschilisti? Perché nessuno lo dice e nessuno ne parla? Visto che invece questa è una cosa un bel po' più evidente e che non riguarda assolutamente tutti i maschi o tutti gli uomini ma riguarda alcune categorie con delle caratteristiche molto specifiche quindi ripeto nella volontà di risolvi trovare soluzioni o di migliorare lo stato delle cose sarebbe opportuno che le femministe e i maschi che alle femministe vogliono dare una mano facessero uno sforzo per mettere a fuoco dov'è che si manifestano i problemi in maniera più consistente più frequente sistemica come in questo caso perché nessuno parla di quali sono le caratteristiche culturali del personale delle forze dell'ordine tali per cui tutta una serie di manifestazioni di situazioni eccetera di cui abbiamo spesso testimonianza si manifestano così frequentemente perché ci sono altri ambienti in cui invece se si porta testimonianza eh di di un di una sofferenza legata al genere si ha moltissimo ascolto moltissima attenzione moltissimo sostegno andiamo proviamo ad andare avanti con la lettura per vedere qualcos'altro viene ritrova silvana viene ritrovata in una pozza di sangue nella sua casa di prato fiorito a colpirla con un martello sarebbe stato spartaco 38 anni un amico del figlio che frequentava abidalmente la casa della vittima nel suo zaino sono stati trovati i gioielli della donna forse ha agito per rapinarla beh che ne so io se nello zaino sono stati trovati i gioielli della donna forse no forse ha agito eh per senso estetico potrebbe essere quindi anche in questo caso la discriminante della morte di Silvana non è il suo essere donna e in quanto tale inferiore o destinata a a a servire eccetera eccetera ma in quanto proprietaria di gioielli Eleonora Morussi piccolo apportamento e Bernard Zucconi 82 anni stiamo ancora ad altri anzianicidi eh Bernardo uccide la moglie che aveva forti problemi di deambulazione non camminava più l'uomo è stato trovato agonizzante sulla porta di casa da una cugina con la pistola in pugno ed è morto in ospedale dopo alcune ore dal ricopro non è chiaro se l'uomo abbia tentato di suicidarsi eccetera ma anche qui troviamo la situazione fondamentalmente di disagio solitudine è molto più semplice in casi come questi presupporre un disagio dovuto all'anzianità alla difficoltà di deambulazione alla malattia alla stanchezza e alla solitudine alla mancanza di assistenza di sostegno ai figli che stanno in giro e non gliene frega più un cazzo e quant'altro che non al fatto che lui in quanto maschio di 83 anni sentisse di avere diritto di uccidere la moglie di 82 cioè veramente non so come questo caso possa essere considerato un femminicidio vittima di un anguato mortale nell'andronome nel garage aggressione ancora da identificare l'ho uccisa con 15 coltellate un delitto che connota una qualità personale potrebbe essere un femminicidio da tempo Anna Malmusi da tempo affetta grave forma di alzheimer una frattura l'aveva grossetta a letto assistita dal figlio emore capucci 66 anni entrambi madre figlio sono stati trovati molti per il duplice delitto indagato fratello di emore uber 67 anni due discutevano spesso per motivi economici legati alla gestione dell'anziana madre anche qui vediamo che è disagio generale non è che era donna perché è morto tra l'altro anche il fratello maschio possiamo andare avanti oltranza io credo che si sia capito il messaggio nell'elenco dei femminicidi nella lista e quindi anche nel numero che così agevolmente viene riportato in questi giorni 60 70 100 quelli che sono rientrano per qualche motivo una serie di casi che non hanno nulla a che vedere con la dinamica del patriarcato inteso come senso di autorità di diritto ad esercitare un'autorità da parte del maschio nei confronti della donna che invece viene sbandierato ai quattroventi dalle varie influencer proto femministe pseudo femministe quelle che dicono ai maschi vergognatevi ai maschi vergognatevi in questo pezzetto di elenco che abbiamo visto potremmo affrontarlo tutto se volete andateci voi ad affrontarlo tutto quello che abbiamo visto abbiamo visto situazioni di grave disagio situazioni di difficoltà economica molti casi di anziani condizioni psichiatriche purti di propriamente di uccisioni di comportamenti lesivi nei confronti di una femmina in quanto femmina da parte di un maschio che ritiene di avere un diritto da esercitare sopra la femmina fondamentalmente c'era solo quello della donna albanese quindi di che cosa stiamo parlando di grazie ma in tutto questo lungi da me negare che esista un problema che esista un problema culturale legato ok ad arcaici da vari eccetera eccetera esiste come ci ha fatto non ci ha fatto notare la buona paola buona e brava paola coltel cortellesi buona brava ma anche tanto pedina anche tanto buonista anche tanto mainstream anche tanto allineata un sacco di altre cose per quanto buona e bravissima buona inteso come bontà d'animo è bravissima come attrice comica cantante donna di un talento evidente evidente a tutti ma che c'è il grilletto facile a cavalcare queste wave di buonismo un po generalizzato di accuse non troppo approfondite eccetera su cause in cui è relativamente comodo farlo qui c'è meno rischio di blowback in cui se lo fai nel momento in cui lo stanno facendo tutti ancora meglio lei in questo caso aveva anche il periodo di uscita di un film già inerente alla tematica eccetera quindi chiaramente una cosa che a lei sta a cuore fa benissimo e però nel suo programma nel programma mi ricordo nell'intervento televisivo che ha fatto qualche sera fa leggeva questo buffo e inquietante elenco di parole che dette al maschile sono innocue o hanno un significato specifico e dette al femminile invece significano quasi sempre mignotta faceva proprio il parallelo e queste sono cose vere esistono delle problematiche di linguaggio in cui la figura femminile o il sesso femminile nelle parole prende una connotazione diversa solo per essere stato declinato al femminile e bisogna starci molto attenti anche se c'è da dire che non è neanche solo un fatto di parole ma è un fatto legato poi al costume legato alla società legato una serie di cose per cui per esempio tutto questo elenco di parole scritto da parte zaki e denunciato dalla cortellesi faceva riferimento sempre solo alla traslazione tra significato letterale valido per il maschio e significa prostituta per la donna e laddove prostituta diventa un insulto diventa una forma di degradazione e per esempio per me in questo caso il problema non sta tanto nel fatto che la determinata parola declinata al femminile significa all'improvviso prostituta ma il fatto che sarebbe opportuno che nel 2023 avessimo scavalcato totalmente il concetto che prostituta possa essere un insulto più questo cioè non è tanto il fatto di dire a dobbiamo eliminare l'accezione di certe parole che se declinata al femminile significa prostituta perché ogni volta che usiamo quei termini stiamo insultando le donne possiamo fare addirittura il doppio salto eliminiamo proprio il concetto che prostituta sia qualche in qualche modo denigratorio a prescindere questo per di quanto so femminista io femminista che faccio il doppio salto quando sento certe cose perché è il fatto stesso che ancora oggi l'idea della prostituzione o della donna che si prostituta perché anche lì c'è un elemento culturale importante cioè l'uomo che si prostituisce non è considerato così tanto così tanto una brutta persona la donna che si prostituisce per quale modo cioè è ancora più profonda la questione no ecco a me viene da fare il doppio salto dire andiamo più dentro al problema dovremmo essere in grado nel 2023 di capire che un mestiere che esiste da sempre probabilmente continuerà a esistere per sempre si spera di me si spera che il genere umano a un certo punto superi una certa soglia di consapevolezza consapevolezza di gestione del proprio mondo emotivo fisico fisiologico tale per cui potrebbe anche non esserci bisogno ma dovesse esserci ancora bisogno per quale motivo continuare a far esistere questa ipocrisia per cui la necessità di mercato per cui quella professione esiste testimonia una condizione della società per cui quel mestiere deve esistere così come no quando si dice non vergognarti di dire che vai dal dal terapista che va in terapia non c'è niente di di strano dire che hai bisogno di aiuto per ciò che riguarda il tuo equilibrio psicologico o psico emotivo è vale sostanzialmente lo stesso per la prostituzione ma siamo un po' lontani ancora questa cosa però ecco il gioco sta là non sta più di tanto nella parola che c'ha la doppia che una in una declinazione offensiva nell'altra no questione su cui vorrei porre un pochino di attenzione faccio già tardi però faccio una premessa siamo molto avanti nel video ma faccio una premessa vorrei che si capisse che così come per tutti gli altri contenuti che faccio io il mio fare questo questa natura di comunicazione non ha tanto lo scopo manifestare una mia personale opinione o visione sulla tematica vi sarete accorti che non sto facendo questo non sto dicendo io a voi come dovete percepire il femminicidio come dovete percepire la situazione culturale sociale o legale della donna eccetera eccetera quello che faccio io personalmente è manifestare in maniera più consistente possibile e cioè ad ogni appuntamento ad ogni exploit manifestare un metodo di ragionamento di riflessione di analisi che sia il meno pigro possibile quello che cerca di elaborare le tematiche con la massima risoluzione possibile col tempo e l'intelligenza di ognuno ha a propria disposizione e quello che cerca di ordinare in modo di priorità i problemi e di immaginare delle possibili soluzioni quindi quello che offro io in quanto samurai è una attitudine lucida al problem solving e non la mia opinione ok e questo è molto importante perché il macro problema che sta molto di tutta questa situazione quella di questo periodo è che invece la maggior parte delle persone non fa altro che manifestare la propria opinione la propria visione nella propria posizione nel mercato nella nella nell'arena delle opinioni nel teatrino nella della paglia eccetera perché da una parte o dall'altra si raccolgono consensi o da uno schieramento o dall'altro questa è una cosa che è molto vantaggiosa dal punto di vista economico finanziario eccetera perché se uno riesce a raccogliere abbastanza accoliti appunto del proprio filone di opinione della proprio del proprio mondo narrativo eccetera a un certo punto riesce ad essere in grado di monetizzarlo se uno è bravo a fare questa cosa è sufficientemente immediato sufficientemente superficiale sufficientemente populista addirittura da andare in televisione a dire la sua opinione e la sua opinione rispecchia quella di una delle squadre di una buona parte dei fan di quell'opinione là ecco che si porta a casa un bel bottino di consenso di visibilità eccetera che poi si può rispendere quindi o valendo di più come opinionista o in politica o eccetera eccetera ecco io tendenzialmente mi rifiuto di far parte di di questa di questo meccanismo e infatti non monetizzo ok non sto monetizzando perché non manifestando un'opinione chiara e diretta che che possa incarnare uno dei due schieramenti non raccolgo accoliti i miei tra virgolette accoliti che poi chiamo soci proprio perché li percepisco quasi più come colleghi sono quelli che a loro volta cercano di analizzare le questioni le tematiche i problemi nella maniera più approfondita che riescono e se mi va bene sono persone che mi riconoscono una certa capacità e riconoscono che io offro degli strumenti più offro dei punti di vista in più delle posizioni di analisi a cui loro che erano sfuggite loro per qualche motivo eccetera eccetera e allora mi supportano perché gradiscono che io ho fra loro questi tool questi strumenti ma non ho nessuno che mi segue perché incarno la sua idea la sua opinione eccetera eccetera e quindi mi mi regala i soldi o mi vota o quant'altro io sono fuori da questo meccanismo perché vendo un vendo no immaginando che questi tutti i miei contenuti dalla musica ai social a youtube eccetera siano il mio prodotto non vendo la possibilità di essere testimonial al fiere della tua opinione ma semmai ti vendo la possibilità di fare uno sforzo in più quindi chi mi compra chi è che vuole fare uno sforzo in più pochissimo quindi voi che pochi che l'avete capito se se ritenete che il prodotto che io vi offro abbia una validità e cioè che io di quando in quando riesca ad offrirvi degli strumenti in più magari accidentalmente vi erano sfuggiti pensateci a fare la mossa di sostenermi su patreon perché ripeto non essendo non lavorando io come incanalatore delle opinioni d'altri io non ho mercato ho mercato su quel numero incredibilmente esiguo di persone che invece hanno piacere ad avere un traffico di modi di ragionare dei punti di vista che non fanno altro che elaborare maggiormente il problema fine parentesi il link qua sotto il patreon altro problema il patriarcato inteso nella maniera più woke più becera possibile e cioè il potere del genere maschile sul mondo il mondo visualizzato come un luogo in cui il maschio in quanto tale gode di una serie di privilegi rispetto alla femmina in quanto tale che è un presupposto che in questi giorni sentiamo apparire nelle bocche e nei pensieri di una serie di opinionisti personaggi influencer eccetera eccetera e che quando appare capiamo subito la portata di quell'opinionista la portata di quell'influencer eccetera e cioè una portata piccolina così un antipasto di pensiero un antipasto di opinione perché dico questo perché laddove è indubbio che storicamente la donna sia stata socialmente relegata ad alcuni spazi ad alcune mansioni eccetera eccetera è anche vero che l'uomo non si è lui stesso arrogato il diritto di scegliere invece di poterle fare tutte perché invece nel corso del tempo l'uomo si è traslato traslocato assentandosi totalmente dalle mansioni che venivano che venivano affidate alle femmine alla fascia femminile della società e occupandosi delle altre ok quindi potremmo parlare da un punto di vista banalmente matematico cioè immaginatevi proprio il tetris ok se in una cultura si stabilisce che a un determinato gruppo di persone viene affidata la responsabilità di alcuni compiti noi tendiamo a dire che quella che che quel gruppo di persone quel gruppo sociale di persone sono sono state svantaggiate sono state limitate nella loro libertà nel di poter scegliere cosa fare della loro vita eccetera eccetera e va benissimo possiamo essere d'accordo su questo e oggi nel 2023 è molto semplice essere d'accordo su questo ma per dire che l'altro gruppo sociale avverso se vogliamo no e si sia invece arrogato il diritto di fare quello che voleva avremmo dovuto in un lasso di tempo di analisi avere testimonianze del fatto che l'altro gruppo si collocava dove voleva continuamente per capirci se nei secoli dei secoli l'uomo avesse detto alla donna tu devi fare la madre devi pensare alla gestione della casa della nutrizione della igiene del luogo in cui viviamo eccetera come tra l'altro se questi fossero aspetti poco rilevanti dell'esistenza come se avere la responsabilità dell'igiene della casa della parte della nutrizione e del sostegno psico emotivo alla prole fossero elementi di scarsa rilevanza dal punto di vista della responsabilità individuale già qui a me mi va in pappa il cervello ma diciamo che l'uomo che l'uomo ha deciso la donna non voleva l'uomo ha deciso tu ti occuperai avrai queste tre mansioni fondamentali io in quanto uomo e quindi in quanto sopra di te ho invece il diritto e la libertà di fare quello che mi pare quindi in una serie di casi io mi occuperò di quelle cose anche sopra di te anche contravvenendo alle tue scelte nelle materie specifiche quindi avremmo dovuto avere per vedere manifestata questa 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 autorità avremmo dovuto vedere voglio di tanto un 25 30 40 per cento di uomini che nell'arco dei secoli facessero i mammi facessero i cuochi facessero le pulizie facessero le mansioni a cui che invece la donna era costretta a fare perché non poteva farne altro e non mi pare che è andata così non mi pare non mi pare che l'uomo si sia arrogato il diritto di fare quello che gli pareva quindi anche le pulizie quindi anche da mangiare quindi anche sostegno psicomotivo ai figli mi pare che l'uomo si sia occupato è esclusivamente delle altre cose oltre queste e quali sono le altre cose oltre queste il lavoro manuale nella casa e o esterno alla casa la creazione di un patrimonio di qualche natura eccetera di un sostegno economico quale che fosse il sistema economico in cui si operava nel momento eccetera la guerra la difesa fisica dalle minacce incombenti eccetera eccetera quindi direi che questo famoso patriarcato per cui l'uomo si si è si è elevato al di sopra della donna arrogandosi il diritto di fare quello che gli pareva mentre la donna doveva fare solo alcune cose quello che gli pareva all'uomo erano comunque sempre altre tre quattro cose che accidentalmente erano complementari a quello che stava facendo la donna non si sovrapponevano quasi mai allora se io dico io sono maschio quindi io decido e io decido che dentro questa casa tu stai solo in questa stanza e in questa stanza nelle altre non ci va e tu le tue cose la tua vita si svolgerà in questa stanza e in questa stanza io siccome sono il capo e decido tutto io invece sto in quest'altra stanza e in quest'altra stanza non in tutta la casa perché sul capo è il comando io sto in quest'altra camera e le mie cose le faccio in quest'altra stanza e in quest'altra stanza allora di che tipo di prevaricazione stiamo parlando esattamente perché sulla carta detta così questa è una complementarità vogliamo immaginare che questa complementarità cioè questa distribuzione delle mansioni sia stata decisa arbitrariamente solo dai maschi abbiamo delle prove storiche di riunioni di maschi in cui si dicono decidiamo che le donne facciamo fare solo questo e noi ci occupiamo solo di quest'altro e lo decidiamo noi e non ci interessa assolutamente niente di quello che ci rispondono loro è successa questa cosa? siamo sicuri che sia successa? perché se se immaginiamo che questa distribuzione è complementare dei ruoli in cui non c'è un particolare vantaggio o un maggiore ambito di libertà da una parte o dall'altra se immaginiamo che questa distribuzione complementare dei ruoli sia stata decisa a tavolino dai maschi e che quindi sono i maschi ad avere esercitato un'autorità esclusivamente nel momento della decisione delle mansioni da fare e non oltre dobbiamo immaginare che questa decisione che questa riunione questo collettivo di maschi eccetera sia avvenuto e si sia svolto in perfetta comunione sincronia eccetera ovunque nel mondo o quasi ovunque nel mondo quasi ovunque nel mondo diciamo ovunque si presentassero una serie di caratteristiche della conformazione e della comunità numero di residenti all'interno di una comunità all'interno del nucleo urbano caratteristiche appunto lavorative struttura delle abitazioni laddove si presentassero una serie di caratteristiche sufficientemente sovrapponibili si è manifestata questa complementarietà in maniera sostanzialmente identica veramente possiamo immaginare che tutti gli uomini di tutti questi luoghi diversi si siano chiamati per dirsi diciamo tutti la stessa cosa così quelle non si possono lamentare la vedo un po' difficile quindi sono costretto a immaginare a formi il dubbio ed eventualmente poi andare a ricercare sono costretto ad immaginare che possano esserci state delle cause tutta una serie di concause che vadano dall'ambito psicologico emotivo fisiologico biologico organizzativo quello che vi pare tutta una serie di fattori che potrebbero essere così tanti da essere difficili da mettere insieme e non lo dico a caso perché se uno va a cercare la letteratura rispetto a questo argomento cioè la letteratura che riguarda come l'uomo abbia distribuito mansioni e ruoli eccetera nelle varie società nel corso dei secoli dei secoli eccetera la letteratura è tanta quindi non è un dubbio un pensiero il problema che si risolve che risolvo io presentandovelo è un dubbio che se ve lo volete risolvere purtroppo vi toccherà studiare un pochetto infine l'ultima sciocchezza che voglio dire anche perché poco devo andare a prendere i bambini a scuola compito che spetterebbe alla femmina ultima stupidaggine di cui volevo su cui volevo porre l'attenzione che può servirvi come tool solo quando parte questo tipo di discussione è questo l'idea che il maschio in quanto tale goda di una forma di privilegio in questa società è un'idea piuttosto imprecisa se volessimo analizzare la questione banalmente solo dal punto statistico dovremmo dire due cose statisticamente numericamente parlando nelle società occidentali società civili ma anche in altre società meno occidentali più arcaiche se vuoi più legate al mondo patriarcale alla cultura patriarcale e bla 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 il genere maschile è quello che numericamente soffre di più soffre di più in termini di il maggior numero di senza tetto sono uomini il maggior numero di clinicamente diagnosticati depressi sono uomini il maggior numero di carcerati sono uomini il maggior numero di morti in conflitti eccetera o anche omicidi legati al crimine sono uomini i lavori fisicamente più provanti e debilitanti sono occupati in stragrande maggioranza dagli uomini i lavori per cui è richiesto di spostarsi molto viaggiare stare lontano dalla famiglia lavorare in condizioni climatiche avverse eccetera sono occupati da uomini numericamente parlando gli uomini il genere maschile patisce di più l'esistenza anche nella nostra società un po' meno arcaica di altri non solo ma ma il tipo di svantaggio sociale legale eccetera che la donna patisce di più come la donna che va in polizia e si sente dire fino a che non ti stacca in braccio non ti posso fare niente eccetera il tipo di lacuna di assistenza e di sostegno da parte della società che subisce una donna quando ha una situazione complicata una relazione complicata eccetera eccetera è molto simile all'assenza di sostegno che vivono tutta un'altra serie di categorie molte delle quali comprendono anche maschi quindi portatori di handicap poveri disagiati in generale stranieri eccetera eccetera cioè ci sono si può essere varie categorie di persone per andare dalla polizia e sentirsi presi per il culo non è una questione solo delle donne è una questione che comprende tutta un'altra serie di persone ci stanno dentro anche le donne sì è importante parlare certamente è una cosa da cambiare sicuro al mille per mille ma non è una cosa che riguarda di cui solo le donne sono vittime molte altre categorie sono vittime e di queste categorie è piena di maschi quindi alla fine dei conti chi è che invece socialmente parlando dal punto di vista dei diritti dal punto di vista del sostegno della possibilità reale di vedere assistite delle proprie problematiche ha un vantaggio oggettivo rispetto a tutte le altre categorie con formazioni sociali eccetera eccetera chi ha i soldi chi ha i soldi e il potere ha cure mediche ha assistenza legale se chiama la polizia nessuno lo manda a quel paese nessuno lo prende per il culo eccetera perché stanno chi è sanno con chi stanno parlando eccetera quindi ragazzi e ragazze a questo punto se dobbiamo essere leggeri superficiali in questo senso capiamo che il privilegio non è dei maschi in quanto maschi ma di alcuni uomini particolarmente cinici particolarmente sprovvisti di etica di morale particolarmente affezionati ai soldi o anche solo particolarmente performanti particolarmente efficienti particolarmente dotati a produrre denaro a produrre ricchezza a produrre potere e quella è una carattere diciamo quel gruppo lì dei reali privilegiati di chi gode di tutti i diritti a pieno regime eccetera ci sono delle figure prominentemente maschili qualche femmina poche meno che evidentemente hanno delle caratteristiche psicologiche intellettuali emotive che li isolano non dalle femmine ma dal resto dell'umanità ok queste persone pensano agiscono si comportano per alcuni fattori in modo diverso dalla stragrande maggioranza degli esseri umani e per quel motivo la polizia gli da retta la legge gli da retta gli avvocati gli danno retta lo stato gli da retta eccetera non perché sono femmine sono maschi sono bianchi gialli maroni beige fucsia eccetera eccetera di maniera prendere il bambino grazie